Che il lavoro sia un diritto di tutti ce lo ricorda ogni giorno la Costituzione in quest'anno in maniera particolare. Torna il corteo del primo maggio a Nociara Inferiore, un corteo di rivendicazione, un corteo però che apre anche alla nuova stagione di concertazione per il lancio dell'area nord della provincia di Salerno in un panorama fatto di luci e di ombre. Una buona notizia arriva dal porto di Salerno dove per 27 lavoratori da oggi comincia il full time. Esprimiamo la nostra soddisfazione come segreteria provinciale della filte CGL di Salerno per la trasformazione di 27 contratti da part time a full time. Un riconoscimento dovuto a dei lavoratori che gli può consentire di vivere una vita più serena, un po' più adagiata rispetto a prima. Questo rientra nell'ottica della crescita del sito produttivo del porto di Salerno che si conferma l'unico sito produttivo a Salerno capace di produrre ricchezza. Per tutta la soddisfazione da parte nostra e soprattutto dell'azienda della Salerno Container Terminal che si conferma comunque un'azienda capace di produrre ricchezza e di garantire il futuro a questi ragazzi che sono tutti giovani nella maggior parte. Oggi siamo qui a marciare per avviare una riflessione soprattutto su un punto, recuperare la dignità delle persone che lavorano ma anche tentare di costruire nuove condizioni di lavoro che possano dare dignità a chi non ce l'ha. Quindi questa giornata deve servirci per non rinunciare alla possibilità di nuovi investimenti che portino a creare strutture produttive e nello stesso tempo a non farci dimenticare che il tempo di oggi forse ci sta facendo conoscere anche nuove schiavitù. Quindi prevenire quelle forme di schiavitù nuove che a volte troviamo anche nei contesti di lavoro. La situazione dell'agro è quella che ahimè stiamo vivendo in ambito europeo se non nazionale e quindi è necessario avviare delle politiche di sviluppo condiviso. Noi ci auguriamo che questa ipotesi di protocollo di intesa del Masterplan possa essere una delle occasioni per recuperare la vocazione produttiva e industriale manifatturiera che i nostri territori hanno avuto e che non devono rinunciare ad avere. Abbiamo cercato di inserire questa giornata del primo maggio in un programma più ampio coinvolgendo scuole, il mondo dello sviluppo, quindi un'attenzione che noi abbiamo quotidianamente per queste fasce sociali. Crediamo in questo modo di operare e lo continuiamo a fare. Oggi è una bella giornata per Nocera, come sempre una forte tradizione di tutela e del mondo del lavoro ma di dignità del lavoro direi. Purtroppo è cambiato anche il modo di approccio al lavoro, abbiamo spesso, facciamo i conti con un lavoro a tempo determinato, con un lavoro part time, con un lavoro da remoto, però credo che Nocera abbia dato una sana risposta anche in questa e sia stato a passo, abbia seguito un po' i cambiamenti, i passi del mondo intero. Quanto all'occupazione in generale, io credo che quello che stiamo mettendo in campo sarà un'occasione unica perché tra zone economiche speciali, mi riferisco all'area industriale, tra zone economiche speciali e Master Plan, un programma di sviluppo comprensoriale, penso che ci siano tutte le basi per fare bene. Il primo maggio senz'altro con un riferimento alla nostra Costituzione, un primo maggio dedicato anche alla pace perché come sempre accade le guerre le fanno i potenti e poi le pagano le persone più povere, un primo maggio sicuramente col pensiero di tutti coloro che sono andati a lavorare per portare il pane a casa e che purtroppo a casa non sono tornati perché è una vera e propria strage ed un primo maggio dedicato anche ai nostri giovani al lavoro precario, sfruttato, che costringe migliaia e migliaia di ragazzi ad espatriare così come si espatriavano i nostri contadini, diciamo seppure in condizioni diverse e con un bagaglio anche culturale diverso. È un primo maggio dedicato soltanto a quei 16 milioni di pensionati perché è un terzo della popolazione di questo Paese ed in particolare ad una parte di questi che vivono con pensioni di 500-600 euro al mese, in Campania sono un milione e spesso oltre ad avere una pensione di 600 euro al mese quando vanno a fare un'analisi devono pagare un ticket esoso e se non hanno i soldi persino qualcuno rinuncia a curarsi. Ecco l'insieme di queste cose ci fa dire che occorre un primo maggio di lotta e di riscatto e non soltanto un primo maggio di festa.